A volte in realtà mi chiedo se me lo ricordo come era prima, nel senso che probabilmente con la scoperta del metodo ho scoperto che c'erano degli altri valori che per me potevano essere così importanti e che ce n'era qualcuno che mi era stato passato che invece poteva avere interesse a spegnere. In realtà è come se mi avesse insegnato nuovamente a vedere, a percepire, a sentire, un po' come se mi avesse svegliato. Era un piccolo zombie che era molto convinto della sua vita, determinato, scoperto con il metodo che c'erano delle altre cose che si possono guardare e che ha senso coltivare e che ti permettono di vivere bene l'unica vita che abbiamo. Vale la pena perché? Dovrebbe essere obbligatorio. È un modo per capire come funziona, come funzioniamo noi, come funzionano i rapporti e soprattutto ti dà quella possibilità di capire che tutti siamo in grado di raggiungere gli obiettivi che vogliamo raggiungere, anche quelli che non immaginiamo. veramente nella possibilità di realizzare anche cose che non avremmo mai immaginato e che non c'è niente di scritto se non la possibilità di viverlo e di realizzarlo.